Eccoci col signore Danelli e le due torri, ora seconda parte del fosso di Elm, treccia nelle mura, vai Aragorn o Legolas, non so, Aragorn va! Grande sale! Dovremmo tenerli qui, oppure alla fortezza! Non possiamo lasciarli avvicinare alle caverne scintillanti! Arrivano! Con quell'elfo lì, genialità, proprio! Porco cane e biga di che arrivano gli suanisti! Chiudi, chiudi, chiudi! Chiudi! Ok, vi sistemo io, bastardelli! Te, te, te! Te, te! Benaggia, ho mancato! Sì, vabbè ragazzi, ovviamente il livello non... adesso il livello è facile perché arriva solo sti qui! In realtà sti cazzo di canicase di merda! Però poi diventerà bello difficile andando avanti! Sì, se fosse solo così tutto il livello allora sarebbe troppo facile! Così tanto, la punta dell'iceberg si fa di più! Oh, mi sono andato da le palle sembrane dei piarcieri! Arrivano, arrivano, arrivano! Oddio! Ancora hai bisogno di tardata! Attenzione ragazzi, ho avuto un errore nell'audio, non si sente bene un po'! Dai, forza! Ahia! Ma mi sono contrattato, e dai! Ciao, mi hai rotto le palle! Anche te! Ahia! Oh, finalmente ho usato la furia elfica per la prima volta! Mamma mia! Andiamo! Sì, schia, guarda che rova, le lame elfiche magiche! Guarda che rova, c'è pure Laura! Va bene ragazzi, con questo abbiamo finito anche il capitolo del Lover Spalda! Ci vediamo al prossimo capitolo con... Sì, vedete che non me lo ricordo! Ciao a tutti! 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 ! 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 ,... ... !... Grazie a tutti.